Siamo qua nel Porto Vecchio di Sanremo, appena sbarcati dal TUI Discoveri, siamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Sanremo, Daniela Cassini, assessora. Allora, piaciuta la gita in barca? È stata una bella gita, indubbiamente. Abbiamo visto una barca molto bella, molto importante, affascinante e di grande prestigio. Quello che abbiamo potuto vedere, siamo stati ricevuti dal comandante, abbiamo ricevuto anche un omaggio in ricordo di questa loro visita e noi abbiamo a nostra volta dato un omaggio in ricordo della città di Sanremo. Per noi questo è un turismo molto importante, lo possiamo immaginare e stiamo lavorando, gli uffici stanno lavorando e hanno già ottenuto ottimi risultati proprio per incrementare l'arrivo di queste navi da crociera su Sanremo sempre più qualificate e sempre più di alto livello, proprio perché è un turismo che piace, è un turismo importante per la città ed è un turismo che ci immette nei grandi circuiti anche delle crociere. E come ci testimoniava sia l'organizzatore che il comandante della nave, Sanremo rimane tra le mete anche più gettonate, più conosciute e anche più ambite. Grazie mille. Perfetto. La tina era buona. Grazie.